Penso che di là inizio, adesso le ultime cinque partite, io cercavo sempre di fare meglio, però è normale che quando fai il cambio, penso, della Serie B per la Serie A, penso che ce l'hai queste difficoltà qua. Adesso è normale che inizi a capire tante cose, come deve affrontare tante partite, però penso che non sia quello, penso che non è uguale, c'è tante cose che cambiano dalla Serie B e dalla Serie A. No, sì, sì, quello, come dicono le statistiche, non dico io, da quando sono andato nel primo anno impresso da Empoli a Frosinone, che da gennaio a giugno avevo fatto sette gol, l'anno dopo avevo cinque gol, mi sa, fino a gennaio a Frosinone, ho finito a quattordici, l'anno scorso a Empoli, a gennaio avevo nove, ho finito a ventisette, allora sono proprio statistiche che dicono, è così, penso che i campi asciutti mi aiutino, nelle mie qualità. Quindi devi giocare adesso. No, no, quello lo lascio sempre ai mister, perché lui che decide, come dobbiamo giocare, e penso che in questo momento non, cioè, chi va in campo deve fare sempre il meglio per il Brescia, non importa chi, dipende sempre da chi manda in campo il mister. Tu dei dubbi dentro te stessi sono il meglio, vuoi sentirti in poi adatto al campionato? No, penso che c'è sempre delle difficoltà nei primi anni, io penso che tanti giocatori, come ho già detto altre volte, nei primi anni hanno fatto fatica e dopo sono importantissimi per la squadra. Mi ricordo quando arrivato la Vese in Italia, fatto il primo anno, mi sa, tre, quattro gol, tutti, è forte ma non fa gol, e quest'anno è importantissimo per Napoli, anche se ha sei gol quest'anno, senza di lui Napoli non sa vincere. Anche se ha Cavani che ha fatto 20, se non gioca a lui Napoli non vince, allora penso che sono questi i salti di qualità che lui ha, anche, prendo esempio, da quando è arrivato non era determinante, ha passato due o tre anni che è in Italia, adesso è un giocatore che lo vogliono tutti. Io penso che è giusto così, se il mister ha le sue idee, passa le sue idee per noi, 3-5-2 penso che stiamo facendo bene e le sue idee lui non deve cambiare. Io mi trovo bene con due punte, con tre punte, come vuole lui, perché dopo è il campo che paga, in questi periodi che non stavo giocando tanto ho continuato sempre ad allenarmi bene, adesso con due punte con la Juve penso che ho fatto una buona partita, per quello penso che non sono quelle le cose da attaccarsi in questo momento. Per me se devo stare fuori, come ho fatto nelle cinque partite, sono stato fuori. Sto fuori, mi alleno uguale e dopo quando mi tocca andare in campo do il mio meglio. Come dice il mister, magari chi parte dalla banchina dopo alla fine può essere decisivo e io pensavo così, perché solo così dopo deve avere la stima per fare bene. 8 partite importantissime per noi, se queste 8 partite dobbiamo giocarsi da tutta, l'importante è che sappiamo che dipende solo da noi, non dipende da nessun altro, dipende solo da noi e quello è una cosa già, secondo me, importantissima. e tiriamo tutto dalla stessa parte, perché è per arrivare a Sarvese dei Brecci. Per quello non facciamo i conti, pensiamo solo a noi, sappiamo che siamo lì a tre punti, che magari con il Bologna vinciamo, tu si sorpassi, va a pari punti. Per quello non facciamo i conti, come ho detto pensiamo solo a noi, che dipende solo da noi. Quello è più bello, che dipende solo da noi, non è che dobbiamo pensare a altri risultati. Grazie a tutti.